Cucci, cucci! Smettila! Mi stai facendo sbagliare traiettoria! Dì la verità che ti piace, bella motorella! Bender! Ah, del chi è? Posso sapere che sta succedendo? Brava, navetta Planet Express! Copri le tue vergogne! Non è come sembra. Bender mi stava solo aiutando a tirarmi sulla turbina. Siete diventati degli oggetti del piacere? Ebbè, aspetta, lo so che siete degli oggetti, ma come puoi uscire con una navetta? Sarebbe come se io uscissi con una cicciona e vivessi dentro di lei e lei sarebbe tutta... Fray, per poter raggiungere il massimo dell'efficienza mi serve una ragazza con un bel sederotto da 400 tonnellate. Bender, uscire con una tua collega di lavoro e primario mezzo di trasporto è immorale, illogico e viola lo statuto dei trasporti interstellari 437-B. E' questo che lo rende così osceno. E tu? Tuttavia, se fossi al tuo posto, cederei a stimoli ben più scandalosi. Daisy, 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 give me your answer, dude. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Basta, mi ha già stancato. La navetta? Ma se siete appena all'inizio... Con i miei poteri robotici posso stufarmi delle cose molto prima degli esseri umani. Beh, siccome dobbiamo continuare a lavorare insieme, scaricala con delicatezza. Al tempo. Per ora mi limiterò a frequentare contemporaneamente qualche bagasciona. Hai così tanto da insegnarci. Non ti provoca neanche un piccolo scrupolo abusare della fiducia della tua fidanzata? Ma lo dici seriamente? No perché rido più forte. Che effetto fa a essere l'avvocato del sindaco e al tempo stesso il miliardario più potente del mondo? Tanto per cominciare, amore mio, bisogna sempre essere sinceri. Buonasera, Bender. Mi permetti di dire alle tue amichette BAM? Oh, conosci Elzar? Novetta Planet Express, sei tu? Oh, ciao, Fry. Bender è in casa? Eh, no, è andato dai suoi genitori. Oh, capisco. Non c'è andato con un'altra navetta, vero? Bender? No, lui è un robot all'antica. Frequenta una navetta alla volta. Gli dirò che sei passata, ok? Ok. Oh, ciao, Fry. Bender è tornato? Di tutti gli zoo che ho visitato oggi, questo è quello che mi è piaciuto di più. Bender, qual è il tuo ratto notturno preferito? Ah, per me sono tutti uguali. Oh, guarda, tesoro, ho i tapiri. Qui c'è scritto che i cuccioli perdono il loro mantello pigiama dopo il primo anno di vita. Non lo trovi interessante? Sì, velatamente interessante, direi. Bender, stai guardando le altre femmine? Mai, piccola mia. Oh, Bender, non mentire. Ieri sera ti ho visto da Elzar con quelle due donnine della notte. Prova a spiegarlo. Sì, mi piacciono le sfide. Ehm, no. No. Ah, ecco ci sono. Con te voglio essere sincero, navetta Planet Express. Le donne con le quali mi hai visto erano le mie contabili. Le tue contabili? Oh, vorrei tanto poter credere alle tue parole, quindi lo farò. Vado a casa a preparare la cena.